ragazzi solo ingredienti bianchi oggi per gli gnocchi della costiera amalfitana andunderi ricotta pecorino parmigiano farina e uovo ma visto che il bianco si abbina bene con il nero guardate qua che bella sorpresa vi faccio tartufo nero fresco di lord truffle che bella sorpresa ma veniamo a preparare adesso i nostri indunderi prendiamo una boule versiamo la ricotta uniamo l'uovo intero pecorino parmigiano sale e pepe e per ultimo la farina amalgamiamo bene fino ad avere un composto sodo ma non troppo non si deve appiccicare alle mani ma non deve neanche essere troppo duro mi raccomando formiamo una palla poi dei salamini e da questi tagliamo gli gnocchi che ho rigato colori gnocchi voi potete usare anche i rebbi di una forchetta oppure schiacciate al centro o li lasciate così normali ho poi lessato gli gnocchi in acqua bollente salata li ho scolati direttamente in una padella e conditi con del burro fuso diluito con un po di acqua di cottura degli gnocchi semplici 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 anche perché poi con la sorpresa che abbiamo il condimento doveva essere semplicissimo eccoli qua impiattati bellissimi pronti per essere divorati però lì a fianco lo vedete c'è quel tartufo nero fresco che dice usami e allora visto che a casa mia è venuta a trovare lord truffle perché non fargli fare il suo lavoro giustamente truffle rain una pioggia di tartufo nero su questi indunderi che sono originari della costiera amalfitana eccoci qua tartufo nero fresco profumatissimo grattugiato a scaglie così direttamente sugli indunderi guardate non potete sentire il profumo straordinario straordinario ma grazie lord truffle alla prossima buon appetito grazie a tutti